Tutto nasce da una ricerca che Lavia stava conducendo su una serie di piccole anonime in Super 8 e che raccontavano in realtà delle storie molto semplici, un filmato della comunione anziché al ristorante oppure durante un matrimonio, insomma esperienze che tutti abbiamo provato a vivere e che però rimangono preziose per chi l'ha vissute e completamente anonime per chi li guarda. Avendole recuperate si è reso valore anche a questa storia in cui ci possiamo riconoscere. Il pittore si è interrogato su questi freni che sono stati selezionati e ha provato a reinterpretarli con il proprio stile e la propria sensibilità. Buon percorso. Grazie. 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 Grazie.